Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto, di Alessandro Brunetti, sedicesima puntata L'importanza di un porto si basa sul numero delle navi che lo frequentano, dal tipo, dalla stazza, dalla specie di navigazione, ma soprattutto dalla qualità dei traffici e dall'avanmare, cioè insieme dei porti regolarmente collegati con quelli in esame. Nel XV secolo si hanno le prime notizie sulle attività commerciali del porto di Livorno che riguardano essenzialmente le importazioni delle materie prime per l'industria laniera fiorentina dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dal Portogallo e da altri porti italiani e la relativa esportazione dei prodotti finiti. Alla fine del XVI secolo lo scalo labronico si rende indipendente dal proprio retroterra assumendo la veste di emporio. Vi si stabiliscono vari operatori che commerciano in spezie, cuoi, cordani, ecc. Nel secolo XVII le navi in arrivo allo scalo labronico continuano ad aumentare. Si hanno rapporti intensi con la Gran Bretagna, tutto il Mediterraneo, il Bosforo e il Portogallo. Cambia leggermente la composizione delle merci poiché si perde il commercio della seta per la diffusione in Europa del bago da seta, mentre dall'Italia meridionale affluiscono olio, uva, passa, fichi, olive. Con navi olandesi e britanniche arrivano il pesce conservato, i salumi, i formaggi, il grano, la segale, i metalli, i legnami, le pellicce, i cereali, il pepe, lo zucchero, il caffè, i prodotti tessili, le droghe e la cera. Nel periodo lorenese, dal 1737 al 1859, i traffici sono particolarmente floridi. Mancano solo le navi statunitensi, non riconosciute dai lorene. Durante la rivoluzione francese si possono distinguere due periodi. Nel primo si ha un incremento dei traffici ad opera dei francesi. Nel secondo il blocco inglese causa un forte calo nel movimento, costringendo il porto a una lenta ripresa e a vivere nel frattempo di cabotaggio, cioè di viaggi limitati e sotto costa. Dopo il 1814 il movimento delle navi si accresce in modo notevole. Fino al 1830 il porto di Livorno è vissuto in modo indipendente dal proprio retroterra e dalla sua economia, mentre dopo tale anno si riallacciano i legami con l'esportazione di vino, bacche di ginepro, alabastro, seta lavorata, cremor di tartaro, organzino e borace e con l'importazione di salumi, manufatti, prodotti tessili, cera e frumento. Nel 1832 Livorno figura al quinto posto fra i porti del Mediterraneo. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info